A BABÀ, BABÀ, VEA! Signorina, arrivate il fax! Ma cosa fanno qui dentro? La famosa soap, tormenti! Le mettete al cazzo, va? E che le polizie? Mi piace tanto scopare. Tu e Dilip, con i tuoi ciesi. Non ho mai visto aperta, bellissima. Oggi nasce Italian Movis. Italian Movis, nuovo business. Italian Movis, show reason. Passa. Ma chi sono questi che ci pagano 5.000 euro? Sudamericani, gente ricca. Tutti hanno bisogno di raccontare qualcosa di bello. Di sognare. Facciamo venire la gente qui a creare dei messaggi video. Facciamo un sacco di soldi. Un sacco di soldi! Ti rendi conto di cosa hai fatto? Sinceramente, no! E questo è soltanto l'inizio. Mi piace sono un sacco di deposito e mi piaceuegoline. Un sacco di couperi. Grazie a tutti